ciao a tutti allora non mancate speciale natale sabato 26 dicembre e lunedì 28 dicembre alle ore 20 avremo tantissimi ospiti nel corso del programma infatti avremo diversi collegamenti ci collegheremo con roma con la nota contuttrice televisiva alda del sanio con la sicilia con atmosfera blu con natalie sciocchetti radio a g che becca qui a montreal con katia astarite maurizio fabrizio a londra in londra e infine con giorgia fumanti sempre da montreal quindi grazie a tutti e avremo anche tantissimi messaggi e tanti auguri di natale angi se abbiamo avuto una grande partecipazione un grazie va a tutti i presidenti degli organismi qua in montreal ringraziamo i ragazzi del fort candle le loro famiglie che ci hanno mandato i messaggi di natale ringraziamo tutti i studenti del picai e della cesta che ci hanno mandato degli auguri di natale e in particolar modo il presidente del picai l'avvocato piero ianuzzi e il presidente del cesta carmine d'argenio mario come ha detto angi veramente c'è stata una grande partecipazione ma addirittura ci sono stati tanti ministri che parleranno appunto il 26 di dicembre certo tanti ministri incluso il primo ministro justin to do che ha registrato un messaggio per il programma appuntamento dando gli auguri di buone feste a tutta la comunità italiana allora questo programma speciale natale è stato proprio dedicato alla nostra comunità vogliamo anche ringraziare tutti gli agriturismi dell'italia e eventi fisarmonicisti dello staff by marco ragazzi buon natale e ci risentiremo nel 20 21 senz'altro intanto vediamo appuntamento il 26 di dicembre con speciale natale